È stato sgomberato da agenti e militari ieri lo stabile della torrefazione Vescovi a due passi dall'hotel Milano, appena fuori dalle mura della città di Padova, occupato poco meno di un mese fa dalla Gramigna, ex Marzolo occupata. Negli ultimi giorni lo stabile aveva ospitato concerti e altre iniziative legate al mondo dei centri sociali padovani. Gli attivisti del Gramigna hanno chiamato all'appello tutti i simpatizzanti attraverso un post Facebook chiedendo loro di recarsi sul posto. Presente di fronte allo stabile è anche il questore Paolo Fassari e diversi esponenti di centrodestra, a partire dalla consigliere regionale leghista Fabrizia Boron e dalla consigliera comunale del Carroccio Vanda Pellizzari, i quali hanno espresso soddisfazione per il blitz delle forze dell'ordine.